Sarvi, sta tranquilla, non aver paura. Aspetta, aspetta un momento, dove corri? Aspetta, ti ho riconosciuta, sai? Sei Chiara, eh? Chiara, la figlia di Favorino. Perché non mi vuoi parlare? Ti prego di lasciarmi in pace. Torna alla taverna, dove vuoi tu? La taverna è chiusa. E allora va a giocare alla guerra, se ti piace. Eh, tra poco ci andrò. Ma su, fermati, voglio parlare. Vai via ora. Ti prego. Fratelli! 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 Lebrosi! Sì! Lebrosi! François! 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 François, che ti succede? Francesco, mon petit Francesco! Che ti sta succedendo, eh? A me lo puoi dire. Ci siamo sempre detti tutti noi due. Ci siamo sempre capiti due. Perché non parli? Ti prego. François, mon françois, non andare via. Rimani qui. François, mon franzo. Fransotis, non Cooper. Non metà. Con vent'rò. Questa è tu! Questa è tua! Corri! Al c dwarferi! Questa è diria che ti metti. Grazie a tutti. Ti rammenti di me? Non mi riconosci? Non mi riconosci? E guardi i fiori. Secondo me è rimatto prima. Non ora. Ti do fastidio, vuoi che... E guardi i fiori. E guardi i fiori. E guardi i fiori. Che tu sia benedetto, caro Francesco. 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 Che tu sia benedetto, caro Francesco.